Stop agli usi impropri e agli sprechi dell'acqua potabile. Questo in sintesi il messaggio principale dell'ordinanza firmata dal sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi. Un provvedimento meditato e fortemente sentito nella comunità nonché espressamente consigliato dalla società Acqua SPA in considerazione della diminuzione delle piogge fino al 40 per cento nel 2011 e pari all'80 per cento nei primi tre mesi di quest'anno. Obiettivo del documento assicurare l'acqua potabile per gli usi domestici evitando possibili disagi agli utenti nella corretta erogazione del servizio acquedottistico tenuto conto della necessità del mondo agricolo e delle utenze turistiche commerciali a pieno regime. Dal 1 luglio fino al 30 settembre salvo eventuali proroghe dovute al permanere delle criticità i cittadini dovranno quindi attenersi ai vari divieti riportati sull'ordinanza tra cui ad esempio il riempimento di piscine private, il lavaggio di autoveicoli, l'alimentazione di impianti di irrigazione di orti e giardini pubblici o privati di superficie superiori a 500 metri quadri, l'innaffiamento di area di vita ad attività sportive pubbliche e private, nonché tutti gli utilizzi di acqua del civico acquedotto per usi diversi da quello alimentare e igienico sanitario. I trasgressori saranno sanzionati con ammende che arrivano fino a 500 euro e particolare attenzione sarà data al fenomeno del pesante prelievo di acqua dalle fontane pubbliche da parte di cittadini non residenti nel comune.